Ciao a tutti, sono Michele Pentelli e ho fatto anch'io questo trappianto di capelli. Volevo ringraziare questa clinica, la dottoressa Weiser, tutti quanti, tutto il loro team, del lavoro grandioso che mi hanno fatto, che mi hanno accolto, mi hanno accompagnato passo a passo tramite messaggi, mail, per circa un mese, dando qualsiasi risposta che io facessi. E vorrei ringraziare tutti quanti perché mi sono trovato veramente bene, anche nell'altra operazione, è andato tutto benissimo, mi hanno accompagnato, ho messo le domande per avermi risposto. E niente, volevo ringraziare ancora tutti quanti e vi consiglio questa clinica perché è veramente il nostro team. Ciao a tutti.